Nel gergo giornalistico c'è una parola strausata per descrivere una tale situazione, bagarre, bagarre in consiglio di amministrazione, bagarre in assemblea, bagarre ed è questo il caso in consiglio regionale. Ma dietro alla parola per quanto abusata c'è comunque una fotografia del reale. Nei giorni scorsi infatti sono state tante le polemiche consumate sia nelle commissioni che in aula. Così era già notte da ore quando è iniziata la seduta consigliare convocata per le 15 e partita alle 20 e 30 di ieri sera. Oggetto del contendere manco a dirlo sono i soldi o meglio la destinazione d'uso del tesoretto tornato nelle disponibilità delle casse regionali. Alla fine alle due di notte la quadra bene o male è stata trovata. Il consiglio regionale è importante che resti produttivo ed efficiente nell'interesse degli abruzzesi. Abbiamo provato tanti emendamenti all'assestamento che risolvono tanti problemi dal De Minimis per i pescatori alla realizzazione alle case dello studente di Pescara, al fondo che malleva le spese aumentate energetiche delle piscine e degli altri impianti sportivi particolarmente energivori e tra le proposte che l'Aggiunta ha ritenuto di analizzare positivamente l'ipotesi di un fondo alle 5 milioni di euro di integrazione delle misure del governo qualora perdurasse la crisi energetica a favore delle famiglie in maggiore difficoltà. Il consiglio regionale ha approvato i rendiconti, l'assestamento ha ricostruito la linearità degli strumenti contabili della regione Abruzzo dando un'idea di efficienza e di capacità. Il tempo che ci si mette è sempre l'incognita di quanto i confronti vadano avanti speritamente. L'importante è che si giunga. Tra gli interventi più sollecitati e oggetto degli emendamenti anche il sostegno alle famiglie e alle aziende per fronteggiare la crisi economica e sociale scaturita dal caro energia. I fondi dunque si sono trovati 5 milioni di euro. Grazie all'ostruzionismo, al costruzionismo si è arrivato a un provvedimento finale ma non è quello che speravo. È un obiettivo mezzo centrato. C'è il provvedimento che dice che per finanziare, per contrastare il caro bolletto per le famiglie, l'aggiunta valuterà nel 2023 se c'è la possibilità o non c'è la possibilità di erogare 5 milioni di euro. Ma non è un impegno tassativo e obbligatorio. Noi avremmo voluto un impegno obbligatorio, cioè stanziare a prescindere dalle somme che metterà il governo centrale. Quindi è un obiettivo mezzo centrato. Meglio questo che niente? Sì, sicuramente meglio questo che niente, ma noi avremmo voluto molto di più. Mi sembra qualcosa che sfiori l'idiozia. Cosa vuol dire? Che se quindi non abbiamo bisogno di mettere 5 milioni di euro perché grazie a Dio magari si giunge ad una pace o cade il costo dell'energia perché c'è il prezzo calmerato europeo o il governo fa il suo dovere e copre le esigenze e invece che malevare altre situazioni di difficoltà dobbiamo investire soldi su quella che oggi è un'emergenza e domani non lo sarà più. Se non sarà più un'emergenza ci occuperemo di altre emergenze, mi pare abbastanza ovvio. Primo risultato. Avevamo ragione noi, le risorse per il caro bollette c'erano, sia per le imprese che per le famiglie, dopo tre mesi di battaglie siamo arrivati a un parziale successo, quello dello stanziamento di 5 milioni di euro. Ne chiediamo di più e ne chiediamo l'immediata erogazione e tocca ovviamente all'aggiunta come spesso avviene quando il Consiglio legifera, saranno poi i regolamenti giuntali a definirne bandi, avvisi, criteri e modalità. Poi ci sono altri obiettivi che abbiamo colto dalla vita indipendente a quello dello sport fino ad arrivare alla possibilità di rimodulazione dei fondi strutturali, ma la nostra battaglia non si ferma. Intanto abbiamo avuto ragione, i fondi c'erano, Marsilio ha sbagliato, ci ha dipinti come degli scemi marchettari, i marchettari sono stati loro e noi abbiamo portato a casa un risultato che ha davvero una importante dignità e che coglie un momento difficile per le famiglie e le imprese.